Scusami, lo so che stai cercando parcheggio, però questa macchina è bellissima. Posso chiederti cosa fai nella vita per averla? Ci hai ripensato, puoi sempre dirlo. Cosa fai nella vita per avere questa macchina? Vendi e compri orologi. Vendi e compri orologi? Caspite, l'orologio più bello che hai venduto? Questo? Che? Quanto vale? Boh, non lo so. Fantastico, grazie. Posso metterlo? Grazie. Ciao. Scusami, lo so che stai parcheggiando, ma posso chiederti cosa fai nella vita per avere questa macchina? O sono troppo indiscreto? Scusami, lo so che stai parcheggiando, ma posso chiederti cosa fai nella vita per avere questa macchina? Va bene, faccio video su TikTok, non ti preoccupare, non lo metto.